Ritorno al passato per Luca Onestini. L'ex cefino ha infatti rivelato su Instagram di voler tornare agli studi di odontoiatria, abbandonati anni fa per intraprendere la carriera televisiva Odontoiatria ha la frequenza obbligatoria. Con quello che sto facendo ora non riesco a sostenere gli esami Ciò però non vuol dire che io non riprenderò gli studi e non mi laurerò mai. Penso anziché a breve ci saranno novità in tal senso Al 99,99% io farò il dentista perché mi piace, mi dà soddisfazione ed è una professione che mi fa sentire realizzato Sempre su Instagram, per chiudere il cerchio, Luca ha pubblicato un'immagine da giovane studente di odontoiatria, evidentemente mai tanto attuale vista la voglia di studi tornata a farsi sentire Tutto questo in attesa che le nozze con Ivana Mrazova, conosciuta proprio al GF, diventino finalmente realtà Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like